Sanji ha sconfitto Fulbodi e vuole colpirlo ulteriormente per impedirgli di riferire l'accaduto ai suoi superiori. Al suo arrivo Zef colpisce entrambi, rimproverando Sanji e cacciando Fulbodi. All'improvviso Fulbodi viene informato che Jin, un pirata, è fuggito dalla prigione della sua nave. Subito dopo proprio Jin gli spara e si accomoda a un tavolo, chiedendo del cibo perché sono tre giorni che non mangia. Tuttavia non possiede soldi per pagare, così Patti lo colpisce con forza e lo porta fuori. Sanji però lo raggiunge e gli offre un piatto di riso. Rufi assiste alla scena e decide di chiedere a Sanji di entrare nella sua ciurma, ma questi rifiuta. Dopo essersi sfamato Jin si presenta e sconsiglia a Rufi di avventurarsi nella rotta maggiore, ma senza successo. Dopodiché si allontana salutando i due. Giunto sull'isola su cui si trova Krik si offre di accompagnarlo al Baratie.